panchina numero 8 finita, panchina numero 9 in fase di ultimazione alcuni volontari lavorano comodi, Armanno lavora da seduto e l'altro Armanno in ginocchio panchina numero 10 terminata panchina numero 11, panchina numero 12 e stanno andando su panchina numero 11, panchina numero 12 e l'orto dei disabili della cooperativa Megafono manchina numero 11 e stoff